Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Marco Rimondi, ho 35 anni e vivo a Carcare. Mi occupo di videomaking, cioè giro il mondo realizzando riprese, in un secondo momento mi dedico al montaggio. Sono specializzato nel raccontare storie relative al mondo outdoor. La passione per la mountain bike e per il ciclismo in generale mi ha portato a specializzarmi in questa nicchia. Negli ultimi anni sono riuscito a realizzare un sogno e tutto è nato quando ho incontrato Luciano Berruti. Quel giorno mi recai al museo della bicicletta di Cosseria dove c'era Luciano che mi aspettava per realizzare un piccolo video promozionale proprio per il suo museo. Dopo qualche chiacchiera lo feci accomodare in mezzo alle biciclette per iniziare a registrare i suoi racconti, ma dopo qualche minuto lo bloccai. Fui ammagliato dalla naturalezza con la quale mi parlava delle sue avventure, con la passione che ci metteva e gli dissi proprio queste parole. Luciano io voglio realizzare un documentario su di te, ti andrebbe? Lui sgranò gli occhi e mi disse semplicemente ok va bene. Da lì fu una storia lunghissima, fu fondamentale l'intervento dell'eroica con la quale organizzammo un crowdfunding. Il risultato è stato un docufilm realizzato con il cuore. Io sono stato il regista e il cameraman, ma ci sono stati altri professionisti che hanno dato il loro contributo. L'eroico ha vinto un sacco di premi in Italia e nel mondo. Ed ora eccoci qua. Buona visione. Ciao!